Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto si apprende in queste ore dalla stampa nazionale, potrebbero essersi aperti spiragli di dialogo proprio tra Ilari Blasi e Francesco Totti. Questo ovviamente non vuol dire che i due stanno per tornare assieme, tutt'altro, ma nella intrigata vicenda legale tra i due forse si sta allentando la tensione. Una tensione è andata avanti per mesi, che adesso, ormai a quasi un anno dalla separazione, ha trovato uno sbocco. Come si sa la famiglia Totti è proprietaria di un centro sportivo, la Longarina, con sede ad Ostia Antica. Qui ha sede la Totti Soccer School, la scuola calcio gestita dalla famiglia Totti. Al centro però erano stati apposti dei nuovi lucchetti e la stessa famiglia Totti. Totti, aveva denunciato questo che considerava un vero e proprio abuso. Le chiavi del centro le avrebbe avute Ilari, che però in questi giorni ha preso una decisione che ha fatto molto scalpore all'interno della pubblica opinione. Una decisione attesa da tempo, ma che va a stemperare sicuramente il clima di asteo tra i due. Ilari, a pochi giorni dalla fine dell'Isola dei Famosi, ha deciso di riconsegnare le chiavi del centro sportivo della Longarina a Francesco Totti. L'ex capitano della Roma può quindi riprendere le proprie attività all'interno della scuola calcio, con tanta felicità per i bambini e ragazzini che ogni giorno frequentano la struttura. A causa della bagarre legale si era arrivati anche all'annullamento del memoria Lenzo Totti, un evento organizzato in memoria del padre di Francesco. Ilari Blasi aveva presentato inoltre una richiesta di 70.000 euro per il centro sportivo, ma anche qui si è trovato un accordo e la cifra è stata ridotta a 30.000 euro. Anche questo è un evidente segnale di distensione.